Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti Sono sempre io, Mugenin, l'ultimo dei talebani napoletani Ragazzi carissimi, siamo qui su APB Reloaded Sono rientrato giusto per provare perché ogni 6 mesi io entro in questo gioco E vedo gli aggiornamenti, come va, come non va, se le cose continuano E la sorpresa questa volta è che ho dovuto cambiare il mio alias Che era il mio nickname, che era Mugenin, Mugenin Z Non so perché me l'hanno rinominato con dei numeri stranissimi Ho dovuto per forza aggiungere questa Z perché Mugenin era già stato preso Adesso andiamo in gioco e vediamo che cosa è cambiato Sperando che non laghi più, speriamo che abbiano lavorato sul netcode Oh, ed eccoci qui finalmente in gioco ragazzi La grafica non è assolutamente cambiata da un anno o due anni fa Aspettaci pezzo io con questo Piuuu È arrivato Buja Lascialo a me, lascialo a me Eeeh, va bene Niente, ti ringrazio comunque Vestito di loso, mio Dio Un gay nella membra, nel membro Va, come si fa Ok ragazzi Ok Stiamo aspettando, sono in vantaggio ma noi aspettiamo Mamma mia che laggate Ma che è qua ragazzi Comunque malissimo Malissimo, proprio malissimo Non mi aspettavo Così addirittura fuori dal muro Il lag come vedete è impressionante 300, 400 di ping Ma non so, è preso Headshot Sì, dai fermi Ma che laggata Bene, l'ho ucciso a colpe di laggate ragazzi E' disgustoso No, non è possibile giocare Adesso sapete perché Mugia non gioca più ad APB Cioè, è assurdo ragazzi Non va giù Non, l'ho ucciso Ok, uno è andato Ma non mi dà soddisfazione Perché il lag è una cosa allucinante Non, guarda Non si riesce proprio a Ho la sensazione come se i proiettili Non arrivassero proprio a destinazione Prenditi sto confetto Boom, ok L'abbiamo preso Sì, ma non sono contento Non è quello che voglio Non è E' peggiorato tantissimo Non migliorato Peggiorato ragazzi Qui vediamo un pochino Dovrebbero esserci delle munizioni Se non sbaglio Ok, lì, dai Guarda Non arrivano Non arrivano i colpi Quanto ne devo sparare Per ucciderlo Quest'arma era pure comprata Se non sbaglio Era il PR2 Un'ottima arma Veramente fantastico Con due o tre colpi Dovrebbe uccidere questa addirittura Eh, vabbè, vabbè Vediamo un attimino Carichiamo un attimo Che peccato Io ogni sei mesi ricarico app con la speranza Questi sono spalti Guarda Non muore Scappa Non muore Guardate che è la gara Ma mi ammazza lui Un altro po' Ma vi ne vedete conto? Cioè Non è possibile Netco di merda proprio Di merda È incredibile Poi di te Mugia Perché non giochi ad APB Ma come cazzo fate a giocare così? Aia Come fate a giocare così? Cioè Non Non arrivano i colpi Guarda Vai Muori Oh Finalmente Cioè Dopo Ma io secondo me Ho un ritardo di 3-4 secondi Poi questo blocco Dello schermo In continuazione Adesso proviamo A uccidere il cicchino Vediamo un po' Dove sta Vedete Non si vede neanche quando spara Questa si chiama Perdere pacchetti Latenza Lag Come cazzo la vogliamo chiamare? È bruttissimo giocare così Perché c'è uno svantaggio Impressionante Ma come cazzo fate a dire che Voi giocate bene? Ma porca puttana Ma come fate a giocare bene voi? Io vi invidio ragazzi Che io adoro sto gioco Ma Se ne sono andati Non l'hanno seccato Ma è allucinante Guarda Ecco guardate Oh neanche un colpo Non gli arrivano i colpi Guarda Guarda lì Non scopo Ma che cazzo? Ma non lo so Mamma mia ragazzi Le palle per terra Occhio ragazzi Che sta per esplodere Quella macchina Boom Ecco qua No ma non Impressionante Aia c'è il chino dietro Ripariamoci Ma Laggatissima proprio Che cosa è successo? Sono ferito Si è bloccato nel muro Che cazzo? Una bomba? Sono morto ragazzi Ecco qua Sono morto come un provoloso Ma no Non sono morto Non si sa perché Una granata sotto il culo E non Quest'altro che non mi vede Cioè Vi rendete conto? Adesso l'ammazzo Aspettate Nelle spalle Ma che schifo Ma impressionante Ma come si fa Come si fa A giocare così Che incazzatura Ma perché i programmatori Guardate qua Che cazzo succede? E' bloccato? Si No no Si E' uscito Quei che dove Sono morto Così Mi ha messo la pausa Sei bloccato? No sei ripreso Dai ragazzi Ecco perché Mugia Non gioca più A questo cazzo Di gioco Non è possibile Giocare così Perché gli altri Ti vedono fermo Cioè Fai le figure Dell'anticappato Con questo E' veramente tutto Adesso è il 14-2 Del 2016 E ancora una merda APB Non ci gioco Lo disinstallo E lo riproverò Fra altri Se messi Con la speranza Che cosa Migliori Cambi Perché In questo modo Non è possibile Assolutamente Giocare Ciao ciao Ragazzi Grazie di essere stati qui con me Porca miseria Che peccato Io adoro questo gioco Lo adoro L'ho sempre adorato Ciao ciao Grazie a tutti